Al di là di quel 2-0 il Pescara era sotto nel primo tempo, si era visto forse il tuo più bel Pescara? Sono d'accordo, ma non ho mai chiesto cose diverse a questi ragazzi, quindi io gli faccio assolutamente i complimenti perché hanno fatto una prestazione straordinaria, sia dal punto di vista tecnico, con degli errori ovviamente, ma dal punto di vista di atteggiamento della prestazione, non hanno mai mollato, anche in dieci dove c'era da soffrire, da correre da tutte le parti. Oggi questi ragazzi hanno fatto una grande partita. La cosa bella che a me è piaciuta, al di là della prestazione, è che quando è stato espulso Dursi, probabilmente ha tirato un po' troppo via quel pallone. La squadra è vero, forse il Gubbio ha preso campo, ma Sorrentino è stato inoperoso, quindi il Pescara si è saputo difendere bene. Allora questa squadra secondo me ha delle qualità tecniche importanti, forse tra i migliori della categoria, ma probabilmente mancava da questo punto di vista un atteggiamento, perché è troppo facile a volte metterci in mezzo in alcune pressioni e secondo me non è giusto per loro, soprattutto che correrebbero a vuoto. Invece oggi da questo punto di vista secondo me c'era questa voglia di lottare, di non mollare mai sotto di 2-0. Chiaramente il 2-1 fatto dopo pochi minuti ci ha dato una mano per ripartire nel suo tempo, ma sono convinto che avremmo fatto comunque una prestazione del genere. Poi se avremmo pareggiato o meno questo non lo so. Io dico una cosa dal punto di vista tattico, sempre una mia opinione personale. Credo che Pontisso più alto, quasi trequartista, una sorta di 4-2-3-1, riesca a rendere tantissimo. Gli perdoniamo anche l'errore sul gol dell'1-0 che si è perso completamente l'inserimento del giocatore che ha segnato. Torniamo a prima. Io alle mie mezziali, visto che giochiamo con due mezziali, gli do molta libertà. Chiaramente in fase di non possesso qualche volta ci crea dei problemi, però vedere Simone, vedere Marco Pompetti, insomma, oltre al gol, delle giocate, quando vanno in avanti sono uno spettacolo da vedere. È chiaro che bisogna migliorare la fase di non possesso, non possiamo attaccare in 6-7, poi difendere con i 3-4. Poi è troppo facile prendersela con i difensori. Quindi sono giocatori bravi, sì, ma vanno fatte entrambe le fasi, come hanno fatto oggi. Non una critica, ma una riflessione, Luciano, perché nel primo tempo, in occasione del gol, si è fatto male Mirko Drudi e il cambio logico era quello di Ijanes. Poi subito, primo minuto del secondo tempo, quindi dopo due minuti, hai tolto Veroli e hai inserito Nzita per dare più spinte su quella corsia. Era pensabile magari inserire subito Nzita e spostare Veroli centrale, perché poi nel finale parlavi con Del Grosso, ho letto il labiale e era rimasto un solo cambio. No, io ho bisogno di un giocatore pronto in quel ruolo. Davide in un ultimo periodo ha fatto sempre il terzino all'esterno-sinistro, per cui ho fatto cambio ruolo per ruolo, diciamo così. Giulio per me è una certezza, quindi gli rinnovo i complimenti che gli ho fatto già l'altra volta, anche quando è stato fuori non ha mai mollato un secondo. Quindi oggi il primo cambio, insomma, era lui dal punto di vista della prestazione. Ma io dicevo solo per non spendere i cambi, visto che il Pescara era... Tanto è vero che poi il cambio di Nzita l'abbiamo fatto alla fine del primo tempo per non perdere lo slot. Chiedo l'ultima cosa, chiedo e poi domande da studio. Che cosa è cambiato tra il Pescara visto nel suo mese di gestione e in pochi giorni il Pescara di questa sera? Perché sono due squadre completamente diverse dalla fase propositiva, soprattutto nella fase di approccio e per come sapevano comandare la partita. Allora, l'approccio non è stato dei migliori come purtroppo ci capita. Tanto è vero che nonostante noi abbia fatto una buona prestazione nel primo tempo, siamo sotto i due gol. Chiamiamoli due infortuni, uno reale e uno simile. Dal punto di vista della costruzione, della fase di non possesso, che è quella che magari un pochettino ci condiziona, io sono settimane che stiamo provando a migliorarla. La differenza la fanno i giocatori, sono sempre stato convinto. Quindi il merito va assolutamente a loro. Stiamo migliorando di compattezza, di squadra. Oggi qualche risultato si è visto. È chiaro che non è tutto migliorato, no? Ovviamente ci sono dei problemi da risolvere, ma insomma, con i risultati abbinati alla prestazione si fa un po' di strada. Studio. Sì, io volevo fare intanto i complimenti a Luciano Zauri perché per me oggi ha indovinato tutto, anche i cambi. Ma poi soprattutto vorrei ricordare che Zauri, cinque partite, no? Sotto la sua gestione, ha potuto lavorare con la squadra soltanto due settimane piene. Correggimi se sbaglio, Luciano, e poi faccio fare la domanda a Fabio Ferraresi. Ma io sono contento di quello che ho, Massimo. Io quando sono arrivato qui avevo un morale che la metà bastava. Avevo voglia di stare qui, di metterci del mio, di provare anche a commettere degli errori, nel calcio chi è che non sbaglia. Quindi io avevo tanta voglia di iniziare e avrei giocato anche ogni tre giorni. Quindi problemi da questo punto di vista zero. È chiaro che avere più tempo per lavorarci sarebbe la cosa più importante. Fabio. Ciao Luciano, ciao mister. Innanzitutto complimenti, mi associo a Massimo. Sono d'accordo sulla tua considerazione, sul fatto di alcune critiche che a volte sono un po' faziose e non vanno bene, però bisogna accettarle. Poi, siccome ho fatto una domanda al Presidente, lui l'ha girata, tra virgolette, te la rifaccio. Visto che dobbiamo vincere una partita adesso che facciamo uno scontro andato e ritorno, potrebbe essere un'opzione giocare con il doppio centro avanti e Clemenza dietro? Ci hai mai lavorato in questo periodo? Allora, il problema di questa squadra, ammesso che lo sia, perché poi abbiamo altre qualità, è la gamba di queste mezziali. Giocando con un 4-3-1-2, adesso parliamo un po' di numeri, le mezziali fanno fatica a coprire tutto questo campo. È l'unica situazione dove magari potremmo andare in difficoltà. Però, insomma, tutto è possibile. Fabio, io... Tutto quello che ti voglio, i ragazzi mi danno, detto l'altra volta, io cerco l'abito migliore per ogni partita. Quindi, vediamo cosa... Vediamo l'avversario ci capiterà, con che modo lo giocherà. Insomma, bisogna ragionare, secondo me, in questo modo. Non pensare, chissà, a quale partita, ma ragionare fino al domani e non dopodomani, perché forse non c'è. Ultima rapidissima per Luciano Zauri. Ti chiedo, se hai qualche preferenza tra le squadre a sorteggio oppure una vale l'altra? Rapido? No, no, assolutamente no. Sei stato un grande difensore, no? Tante partite in Serie A. Tu ti saresti fermato con Drudi a terra? Ma guarda... Sì o no, sincero? No, l'unico attenuante è che, secondo me, lui non l'ha visto. Perché quando lui ruba palla, o c'è ruba palla, Mirko si ferma, lui se lo trova dietro, secondo me non l'ha visto, quindi da questo punto di vista. Io non nemmeno ho protestato, perché ero lì, secondo me non l'ha visto, non l'ha visto per niente.